Gentili telespettatori, buona giornata. Da una parte abbiamo Berlusconi che ferma i programmi di Del Debbio e di Giordano perché troppi Novax nelle sue televisioni ha le elezioni al Quirinale e vuole cercare di farsi vedere in un certo modo. Caro Silvio, non puoi cancellare la tua storia politica e personale cancellando il primo di dicembre i programmi di Del Debbio e di Giordano, sospendendoli fino a chissà quando perché invitano i Novax e nuoce alla tua elezione al Quirinale, i tuoi trascorsi, Bunga Bunga, Bingo Bongo e tutte quelle cose lì, non è che si cancellano, non è che quelli del PD dicono oh ma Berlusconi è un'altra persona, scurdammo su passato, no, non se lo dimenticano il passato ma neanche gli italiani si dimenticano, le corna, i tacchi, il Bunga Bunga e tante altre cose e pertanto mi sembrano un po' delle cose in estremis che non serviranno a nulla Berlusconi, caro e così sospende i programmi perché invitano i Novax, ma i Novax vengono invitati non dai conduttori ma dalla rete televisiva perché devono creare la litigata, perché crei la litigata e c'è audience audience sono soldi, pagano di più le pubblicità, se non inviti i Novax e inviti solo i medici la gente cambia canale perché all'italiano medio interessa la litigata, il trash, la televisione spazzatura il conduttore col monopattino e dopo questo sentiamo che anche Enrico Mentana potrebbe prendere il posto di Massimo Giletti, il ritorno anche di Santoro, allora vi dico Santoro era faziosissimo una cosa tremenda, però non so perché ma a me Santoro non lo so, mi faceva simpatia come Floris, forse un po' anche come tanti di sinistra che sono su questo canale che nonostante io non sia un giornalista di sinistra gli piace sentirmi perché è sempre bello sentire l'altra campana in modo da potersi confrontare, io la penso in un modo, fammi sentire uno che la pensa diversamente in modo che anch'io posso capire e mettere magari anche in dubbio alcune cose che penso, forse è il stesso meccanismo mentale che io ho con Santoro quando faceva i suoi programmi con Travaglio, a parte che non c'erano programmi di conduttori di centrodestra di politica c'era Santoro, Floris, o quello o quello, ecco ma una foto vale più di mille parole perché Enrico Mentana sui social carica una foto insieme a Michele Santoro, Mentana direttore del TG di La Sette oltre allo scatto con Santoro scrive un commento che solleva dei dubbi, stiamo preparando una cosa forte per gennaio che cosa puoi preparare per gennaio? Un libro? Ormai scrivono tutti che caspita, cioè un conduttore televisivo e un ex conduttore televisivo che vuole tornare in televisione perché Santoro vuole tornare in televisione ma non gli hanno più dato spazio secondo voi che caspita stanno preparando una carbonara? Molto probabilmente al 95% un programma magari televisivo insieme, anche se non mi vedo due co-conduttori, cioè due conduttori in un programma, mi sembra un po', è questo che mi sembra un po' strano, quindi bella domanda. TVblog ha tentato di rispondere sostenendo che i due, Mentana e Santoro sarebbero protagonisti di un nuovo programma collocato nella prima serata del mercoledì, ovviamente su La Sette. Un'indiscrezione che, se vera, costringerebbe non è l'arena a cambiare giorno della messa in onda. Sempre stando a quanto rileva TVblog, Massimo Giletti potrebbe tornare alla domenica. Molto probabilmente però il nuovo programma di Santoro e Mentana potrebbe uscire a cadenza variabile, senza andare in onda tutti i mercoledì. Un grande ritorno quello di Santoro, l'ex conduttore di Anno Zero che lasciò La Sette nel maggio del 2015. Ad oggi, in vent'anni di esistenza, il record d'ascolto della rete è legata proprio a una trasmissione del conduttore campano che il 10 gennaio del 2013, grazie alla partecipazione di Silvio Berlusconi a servizio pubblico totalizzò 8.670.000 spettatori, pari a uno share del 33,6%. Che Salerno voglia replicare questo? Certo che è che Mentana a riguardo era stato chiaro. Questa è casa tua e quella è la tua poltrona. Voglio rivederti in onda, ma non come ospite, aveva già detto dopo averlo invitato nel suo studio. Beh, è certo che probabilmente magari un ritorno molto prima delle elezioni di Berlusconi al Quirinale. Santoro era uno dei grandi accusatori del cavaliere, solo che non è più il cavaliere di una volta e non è più il Santoro di una volta. Chissà se può riprendere, perché potrebbe fare anche lo scoop di invitare Berlusconi sulla Sette proprio per parlare di Quirinale. E probabilmente Berlusconi, sono convinto che accetterebbe un invito di Santoro, perché alla fine, guardate, i grandi nemici alla fine diventano come degli amici. Uno vive per l'altro, uno vive per criticare l'altro, ci pensa dalla mattina alla sera, è un po' questo il meccanismo che si instaura nella mente delle persone. Il grande nemico diventa poi uno di famiglia, guai a toccare il grande nemico, perché ormai è diventato... quindi per Santoro Berlusconi comunque sarà stato il grande nemico, ma è uno di famiglia praticamente. Ci manca solo che va ad Arcore la sera a mangiarsi un brodino con Berlusconi. Berlusconi, bene, ce ne vedremo delle belle se Berlusconi va al Quirinale. Certo sarebbe divertente sotto un certo punto di vista, ma non so come possa essere preso in Europa, lo spread, tutte queste cose qua, perché Berlusconi ha la sua storia che certo non può cancellare sospendendo i programmi di Del Debbio e Giordano perché sono pieni di ospiti Novax. Ma quella è la logica commerciale delle reti, non credo che Del Debbio e Giordano siano loro in prima persona a dire invitami quello, o magari mi sbaglio, magari sono proprio loro, chi lo sa. Lo scopriremo in questi giorni che cosa succederà. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.